Bene, io ringrazio tutti, ringrazio gli organizzatori, ringrazio Francesca, ringrazio Monsignor di Donna perché ha fatto un'introduzione meravigliosa e devo dire mi ha aiutato molto perché le mie diapositive, il titolo come avrete visto è un titolo un po' complesso, sono eccessivamente tecniche. Io pensavo di avere la possibilità di far capire che cosa è l'epigenetica, che è una parola che è diventata di moda, ci proverò, cercherò di renderla un po' più comprensibile. Devo dire che però sulla a base di quello che Monsignor di Donna ha detto è più facile introdurre questa tematica e cerco di spiegare in che senso. Quando si parla di ambiente salute, 30 anni fa ambiente salute si pensava fosse l'inquinamento che colpiva alcune persone piuttosto che altre perché avevano un'attività specifica, era la medicina del lavoro, la medicina occupazionale che si occupava di ambiente salute. Non è più così, da alcuni anni, da una ventina d'anni, sempre più chiaramente è l'esposizione delle popolazioni che è importante. Quindi per esempio lo studio Sentieri, che sicuramente è uno studio significativo, ha considerato certe aree, ma è assolutamente fondamentale ribadire quello che ha detto il Monsignore. Non sono la terra dei fuochi il problema, è la terra che rischia di diventare un pianeta dei fuochi il problema. Cioè l'espansione delle attività industriali non controllate, la scarsa attenzione di quello che è l'inquinamento. E qui due punti a capo. Che cosa significa inquinamento oggi? L'inquinamento è la trasformazione della composizione molecolare dell'aria che respiriamo, cioè che abbiamo respirato per milioni di anni in quanto primati o quantomeno per centomila anni in quanto Homo sapiens, è la trasformazione della composizione molecolare dell'acqua che beviamo e delle catene alimentari, è l'introduzione di almeno 120.000 molecole di sintesi nel giro di 30 anni, è l'introduzione di una probabilmente centinaia di migliaia, nessuno ne ha fatto mai il censimento, di molecole tossiche che sono il prodotto appunto dei fuochi, cioè di reazioni termochimiche che sono ovunque, dal traffico veicolare alle industrie non sufficientemente controllate e adattate a quello che sono le esposizioni di chi. E questo è il secondo passaggio. Chi sono gli esposti oggi? Gli esposti sono le popolazioni, siamo tutti noi, non è che siamo tutti equiesposti, però per esempio nelle grandi città, e tutti sapete che uno dei fenomeni fondamentali a livello sociale negli ultimi decenni è l'urbanesimo, più della metà della popolazione del mondo vive in grandi città. E questo significa che sono tutti esposti, non gli adulti, non solo i bambini, ma l'embrione e il feto. Questo è il punto chiave da cui si parte ormai per fare il discorso ambiente e salute, è qui che nasce l'epigenetica. Ora, da questo punto di vista, per questo dicevo, questa illuminata introduzione di Monsignor Didonna mi aiuta molto. Perché? Perché l'epigenetica non è, come alcuni ancora pensano, una parte della genetica. È qualcosa di totalmente diverso. Progetto Genoma, io cercherò poi di farvi vedere questi passaggi, ma ve li introduco brevemente. Progetto Genoma è stato un grandissimo progetto di ricerca, era finalizzato a dimostrare quello che 30 anni fa pensavamo tutti, cioè che nel DNA c'è un progetto che è necessario e sufficiente alla costruzione dell'organismo e che sarebbe stato importante studiare la sequenza del DNA di ognuno di noi per trovare gli errori che danno le patologie. Le mutazioni, i polimorfismi, non funziona così. Da alcuni anni abbiamo capito che il progetto Genoma va letteralmente rimodulato sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, e questa è l'epigenetica, ma ormai si parla di genomica, ologenomica, metagenomica. Che cosa sono queste parole? Nascondono qualcosa? Per noi che ci lavoriamo è sempre più chiaro che in realtà il DNA è solo una piccola parte di un sistema che si è costruito in miliardi di anni, e qui lo sottolineo, che non sbaglia, perché ha 4 miliardi di anni di esperienza e il DNA non sbaglia. Se il DNA accumula danni è perché noi lo stiamo bombardando. È totalmente diverso da quello che si pensava e che alcuni continuano a sostenere. Qualcuno continua a sostenere, scusate se lo dico, il 90% dei nostri colleghi, che il cancro è un incidente genetico legato a mutazioni casuali del DNA. Non è così. E questo però ve lo farò vedere. C'è tutta una parte di ricerca, ecco l'unico passaggio ed è un messaggio credo importante, il nesso scientifico tra l'esposizione, sempre più precoce, questo è il problema, a migliaia di sostanze che non erano nelle catene alimentarie, nell'aria e nell'acqua, nei centomila anni della nostra storia, della nostra filogenesi, sta determinando un'instabilità del sistema, in particolare del genoma, che accumula una serie di modifiche che sono difensive, reattive e adattative, ma che si manifestano pericolosamente come patologie. Le patologie non sono incidenti. Se stanno dilagando l'obesità nei bambini, 30 anni fa non esisteva l'obesità nei bambini, io facevo il pediatra, ero al Maier, io in dieci anni non ho visto un bambino obeso. Nella sola campagna 12% dei bambini oggi sono obesi. È il DNA che è impazzito? Per fortuna no. Quello che è successo è che si è sprogrammato nella prima fase della loro vita il software del genoma, che si chiama epigenoma. Il diabete secondo era una patologia degli anziani e comunque degli adulti fino a 20 anni fa. È una patologia che sta aumentando negli adolescenti. Il diabete primo era una malattia specifica, che era una patologia cosiddetta autoimmune, che colpiva alcune volte raramente i giovani e si chiamava diabete magro. Il diabete sta aumentando anche in questa forma di patologia autoimmune nei giovanissimi e si manifesta in forma totalmente diversa. Anche i diabetici di tipo primo sono grassi. È tutto diverso. Non è il DNA che è impazzito, è che lo stiamo disinformando. Come? Ecco che cos'è l'inquinamento, capite? L'inquinamento è tutto ciò che nell'ambiente abbiamo trasformato troppo in fretta perché il sistema riesca ad adattarsi. Quindi dobbiamo rallentare. Ed è un problema planetario, è un problema di cultura, è un problema di etica, principio di precauzione e insieme principio di responsabilità, che è l'altra parte del discorso, in cui bisogna attivare un circuito di alleanze che vada molto al di fuori della comunità scientifica. Tanto più che la comunità scientifica è ancora molto divisa, diciamo così. O anche, e questo guardate, ve lo dico fin dall'inizio, perché anche qui io ammiro il coraggio di chi le denuncia queste cose, è anche molto controllata, perché la ricerca nel mondo è controllata da grandi corporation che non hanno nessuna intenzione a che vengano fuori queste informazioni realistiche e reali. E lo dice, per esempio, il direttore di Lancet, che è il più importante giornale medico al mondo, che nel 2014 afferma più della metà degli articoli scientifici nel mondo, di articoli di giornali come Proceeding of National Academy Science, Nature, Science, i più importanti giornali scientifici sono controllati da Big Pharma. Capite? Cioè significa che noi non riusciamo a uscire nei giornali più importanti perché la gran parte della letteratura scientifica e della ricerca è controllata da chi ha interesse a che tutto questo non emerga. Allora noi abbiamo veramente questa responsabilità ed è importante essere proprio qui. Lo dico perché noi da soli, chi fa ricerca, siamo veramente una piccola quantità di persone e alcune cercano di farlo in modo indipendente, altri no. Ma soprattutto siamo assolutamente incapaci di uscire dai, non dico dai nostri laboratori, ma dai nostri circuiti e già per i medici è difficile cambiare il proprio modello, il proprio paradigma in modo così drammaticamente significativo. Ecco perché oggi io sono grato di potervelo illustrare quello che sta emergendo e di vedere se riesco a tradurre in termini comprensibili questa che è una rivoluzione scientifica in atto che riguarda la biologia, la biologia molecolare, la biologia dello sviluppo, la biologia evoluzionistica, la biologia legata alla medicina, il mondo della biomedicina cosiddetto, e che non è ancora stato accettato fino in fondo. Per far questo parto con una serie lunga di diapositive, perché Maria Neira, che avete appena sentito, con cui ho collaborato negli ultimi anni, mi aveva in qualche modo fatto sapere già da tempo che aveva difficoltà a venire, qualche giorno fa Prisco Piscitelli mi ha detto guarda hai tu da fare un po' le due relazioni perché non verrà appunto Maria. Io ho collegato questa parte più generale a una parte più esemplificativa delle patologie che stanno aumentando. Si può dire che l'inquinamento è causa di sette milioni di morti ogni anno? Vi farò vedere che è molto più di questo perché l'inquinamento non è quello che viene considerato come la causa delle morti cosiddette da esposizione acuta. Se noi calcoliamo gli infarti legati all'inquinamento, le patologie come gli ictus, è vero, si arriva a sette milioni di morti. Ma se noi consideriamo tutte le patologie che derivano dall'esposizione del bambino e del feto e che determinano una sprogrammazione dei tessuti e che vengono a emergere 20 o 30 anni dopo, capite che non sono sette milioni di morti e molto di più. Allora tutto questo si parla ormai da qualche anno di un termine non molto noto nella comunità dei medici che io ho segnato in rosso, come vedete, developmental origin of health and diseases. Le gran parte delle patologie che stanno dilagando nel mondo, e dicevo, l'obesità, il diabete secondo giovanile, le malattie autoimmuni, i tumori dei giovani, e farò vedere come giustamente questo è forse l'allarme più significativo, insieme ai disturbi del neurosviluppo, disturbi di spettro autistico e alle malattie neurodegenerative, non stanno aumentando perché il DNA sbaglia, ma proprio perché l'esposizione precoce a degli insulti, a delle sollecitazioni e delle informazioni, chiamiamole proprio così, sbagliate, non presenti in natura per millenni, sta disturbando la programmazione fetale. Questo significa developmental origin of health and diseases. Questa prima diapositive, adesso finalmente posso partire e ringrazio nuovamente questa grande introduzione che mi ha permesso anche di essere forse più comprensibile oggi a tutti voi, questa prima diapositiva l'ho mostrata al primo congresso mondiale sulle origini fetali delle malattie a Londra, due anni fa, ed è chiaramente il titolo che mi era stato proposto, è questo. Le pandemie attuali, l'aumento di patologie croniche, infiammatorie e tumorali, con la continua anticipazione nel tempo dell'età di insorgenza, ed è quello il vero problema, non è causato da incidenti di percorso, ma da una sprogrammazione che noi possiamo evitare se lavoreremo nella maniera corretta nei prossimi anni. Questo è il punto. La definizione che viene data normalmente è la genetica scrive a penna. Ci sono errori rari nel DNA sono scritti a penna, non si cancellano. L'epigenetica scrive a matita. Il software viene continuamente modulato e modificato. Noi possiamo ancora interagire e interferire positivamente. La grandissima parte di queste patologie che stanno aumentando sono reversibili e prevenibili, soprattutto prevenibili. Per questo può cambiare veramente la prospettiva per i nostri figli e per le generazioni future, se riusciamo a ridurre l'esposizione materno-fetale. Questo è un po' il punto. Allora, questa prima diapositiva dice esattamente questo. Noi dobbiamo lavorare in questo periodo in cui le madri, non volendolo, passano al feto una serie di informazioni sbagliate, accumulate per anni o decenni nei loro tessuti, che sono i metalli pesanti, che sono il particolato ultrafine, che sono gli interferenti endocrini. Guardate che la parola interferente endocrino, che sembra qualcosa di... forse interferisce sugli ormoni. No, gli interferenti endocrino sono delle molecole mimetiche, che nella prima fase della vita agiscono da pseudomorfogeni e disturbano la differenziazione dei tessuti del feto. Quindi sono dei veri e propri veleni inavvertitamente costruiti, e sono spesso pesticidi, e questa parola chiave è importante in questo periodo della vita, insetticidi e in qualche modo i plastificanti. Per esempio il bisfenolo A, di cui forse avete sentito parlare, che è in tutte le plastiche, compresi i biberon di tutto il mondo. Allora, queste sostanze sono veramente delle sostanze non intenzionalmente, accidentalmente, biocide, ma ormai lo sappiamo. E quando qualcosa avviene, che ormai è dimostrato, abbiamo tutti gli strumenti per mettere in guardia. Guardate quello che, per esempio, abbiamo scoperto da qualche anno. Ci sono da 5 a 700 molecole epigenotossiche in tutte le placente del mondo, soprattutto nel nord del mondo, soprattutto nelle grandi città. Ecco cosa sono le terre dei fuochi. 700 molecole che disturbano la programmazione fetale. Ora vi farò vedere che il Ministero della Salute, due anni fa, ci ha finanziato un importante progetto anche in Italia, su cui stiamo puntando molto, ed è importante che lo sappiate, che ci si aiuti a vicenda. Perché la placenta, in questo contesto, è l'organo fondamentale. La placenta è stata sempre buttata via come un organo, tutto sommato, che è servito, non serve. La placenta, come si vede in questo articolo, è la cabina di regia della programmazione fetale. È il feto che in buona parte la produce. Per prendere informazioni dalla madre, non solo nutrizione, ossigeno, ma letteralmente informazioni sul mondo che verrà e si programma. Capite? La importanza. Allora noi adesso stiamo studiando questo. Vi faccio vedere come. Da alcuni anni mi invitano con questo ESERI, questo European Cancer and Environment Research Institute, che è un istituto di ricerca, per esempio, in posti come questo, la Martinica, piccolo paradiso, tutti ce lo immaginiamo così, e lo è potenzialmente. Che cosa succede in Martinica da alcuni anni? Da vent'anni c'è il record mondiale dei carcinomi della prostata. E c'è l'aumento continuo di disturbi di spettro autistico. Martinica. Allora, chiaramente, che cosa è successo? Hanno chiesto l'intervento degli epidemiologi, lo dico ancora una volta senza critiche eccessive, ma è così, in buona parte francesi, che per dieci anni hanno studiato dicendo sì, forse, forse sì, forse no. Allora ci hanno invitato, dicendo forse gli italiani, o quantomeno ESERI è un istituto internazionale che è a Bruxelles, hanno meno coinvolgimento in questa storia. Beh, noi ci siamo chiesti, queste sono le tre domande che ci siamo posti, è possibile che alcune sostanze epigenotossiche che disturbano il fetal programming, il programma fetale epigenetico, siano presenti anche in Martinica? È possibile che delle sostanze come questa, leggete il nome, ora vi faccio vedere che cos'è, si chiama Chlordecone, è un pesticida, possa avere lo stesso ruolo che ha avuto a Seveso la diossina da 30 anni a questa parte per un incidente grave di cui tutti probabilmente sapete? Beh, allora perché è difficile dimostrarlo? Perché la Chlordecone è un, diciamo, un antigrittogamico, un pesticida che viene usato dalle compagnie bananiere francesi da 30 anni. E chiaramente dire sta dilagando il carcinoma della prostata o i disturbi di spettro autistico perché c'è la Chlordecone nelle catene alimentari, si può dimostrare con una certa difficoltà se si usano i vecchi modelli per cui il cancro è un incidente genetico. Ma se si usano questi nuovi modelli di cui farò vedere è facilissimo andare a trovare quali sono i marcatori biologici che definiscono l'esposizione del bambino e del feto, i suoi effetti. Per questo è importante, per questo rassicuro, Monsignore, noi abbiamo le risposte, bisogna farle valere nelle sedi importanti. E allora a questo punto questa epidemia di disturbi è legata molto di più, questa vera e propria transizione epidemiologica, ai danni intesi come disturbo della programmazione, non al DNA che è impazzito. Questo è un modello nuovo, è un modello che dobbiamo portare a conoscenza, per esempio, vi faccio un esempio, dei nostri colleghi giovani, degli studenti nelle università anche italiane, non se ne parla. Non esiste nei curricula di studi delle nostre università nulla di questo, non viene... c'è l'esame di igiene in cui c'è una paginetta in cui si accenna qualcosa, ma non si parla di tutto questo. Mentre i pesticidi, come vedete, sono pieni, le placente sono pieni di queste sostanze e queste sostanze vengono filtrate, passano al feto, disturbano la programmazione fetale, ora vi farò vedere cosa significa, aumentano per esempio i casi di prematurità in tutto il mondo. Guardate che la prematurità non è semplicemente... e vabbè, nascono un po' prima. Nascono un po' prima non di due o tre giorni, ma alcune volte di un mese o di due mesi. Nascono sempre più bambini che pesano un chilo, 700 grammi. Sono bambini in cui ancora la gran parte delle circonvoluzioni cerebrali non è neanche formata. A otto mesi il cervello è pronto per il due terzi e la gran parte delle connessioni sinaptiche delle reti neuronali ancora non sono formate. E perché avviene tutto questo? Perché per esempio abbiamo visto, e questo è un gruppo francese tra l'altro, che in Martinica c'è un aumento continuo della prematurità. Perché la prematurità significa in realtà che o il feto non riesce a stare più là dentro perché si sente bombardato, o la madre non riesce più a trattenere il feto dentro, perché ha dei disturbi che sono legati alla presenza di un allotrapianto che normalmente viene tollerato da milioni di anni, da quando ci sono i placentati, con dei meccanismi immunologici fini di tolleranza che sono disturbati per esempio dai pesticidi. Quindi ancora una volta ce l'abbiamo la spiegazione, abbiamo la dimostrazione epidemiologica, tossicologica. Certo, se si continua a fare epidemiologia mettendo un circoletto attorno all'inceneritore e dire quanti sono i morti feriti, non si può capire tutto questo. Il modello è totalmente diverso. Se si prende un animale e si usa la vecchia tossicologia, lo si espone a delle dosi crescenti e si vede che effetto fa, ma non si vede tutto questo. Allora, e proprio non si vuol vedere? E beh, alcune volte viene il dubbio che non si voglia vedere, perché noi lo vediamo e come. E per esempio siamo a Taranto adesso a raccogliere le placente, raccogliamo le placente dei bambini che nascono davanti al quartiere Tamburi e quelle che nascono a 10 km sul mare e vediamo cosa succede, perché facciamo l'immunoistochimica, facciamo l'epigenetica, facciamo la spettrometria di massa, facciamo la metabolomica. Capite l'importanza di questo? Allora, dico subito, è stato il Ministero della Salute che ce l'ha finanziato. È importante perché qualcuno che, e purtroppo c'è chi dice, sono le istituzioni, le istituzioni sono... Sant'Agostino diceva la Chiesa è piena di santi e ci sono anche le prostitute. Non ha importanza, la Chiesa è tutto, la Chiesa è qualcosa di più grande dei singoli. Dobbiamo vedere le tinte grigie, le tinte bianche, le tinte nere, figuriamoci al Ministero della Salute, ma al Ministero della Salute c'è stato il direttore del Dipartimento di Prevenzione che ha voluto fortemente questo e devo dire che invece qualcuno, magari in istituti o in associazioni mediche di volontariato, che ha cercato di bloccarlo tutto questo. Capite? C'è di tutto, c'è il bene, c'è il male, confuso. Non siamo noi che possiamo giudicare, questo veramente voi me lo insegnate. Comunque bisogna puntare sull'unire quelli che vogliono che tutto questo venga a galla, non combattere chi non vuole. Dobbiamo cercare di far vedere che queste notizie che stanno emergendo su Taranto sono quelle che sono molto uguali, molto simili a quelle della Martinica e di altre mille, duemila, diecimila terre dei fuochi. Perché è il pianeta appunto che dobbiamo in qualche modo riconoscere come pianeta a rischio, come umanità a rischio, come specie, come biosfera a rischio, gli ecosistemi sono in qualche modo a rischio. Questo è un editoriale che ho scritto alcuni anni fa proprio per il congresso di Londra e questo dice chiaramente le pandemie non sono incidenti biologici, le pandemie sono legate al fatto che il feto ormai è letteralmente bombardato da queste sostanze. Quindi se stanno aumentando le patologie croniche, dall'obesità alle patologie cardiovascolari, dall'asma alle patologie immunoinfiammatorie, dai disturbi del neurosviluppo alle malattie neuropsichiatriche maggiori e soprattutto a quelle neurodegenerative e poi farò un accenno all'Alzheimer perché è importantissimo sapere che l'Alzheimer non è per niente un prodotto di un DNA impazzito. L'Alzheimer fino a 50 anni fa non esisteva, quasi. Era una malattia rarissima. Sapete il numero attuale delle diagnosi di Alzheimer negli Stati Uniti? 6 milioni circa. Sapete in Gran Bretagna, in un paese di 60 milioni di abitanti, 68, non so esattamente, un milione e mezzo. Sapete in Italia, dati Istat, quindi facilmente verificabili, un milione e 250 mila diagnosi di Alzheimer. E dov'è la differenza? Si vede dalle autopsie. Nelle autopsie di 50 anni fa non esistevano. Perché l'Alzheimer è un'atrofia cerebrale con la beta-amiloide che va a precipitare nel lobo frontale e nell'ippocampo e cancella la memoria. È una patologia devastante. Sta dilagando. La possiamo assolutamente ridurre perché sta aumentando soprattutto nelle vere terre dei fuochi che sono per esempio le grandi periferie delle città. Lì sta aumentando. Perché? Perché il particolato oltrafine di cui giustamente Monsignore ci ha ricordato la potenza porta i metalli pesanti per la prima volta della storia dell'uomo all'interno delle cellule, passa la membrana plasmatica, passa la membrana nucleare, disturba l'epigenoma. Quindi capite che noi abbiamo ormai tutti i passaggi. Se vedete sui libri si continua a leggere che c'è una probabilità che sia una malattia genetica come l'autismo, che non è una malattia genetica, come la schizofrenia, che non è una malattia genetica, eccetera. Allora capite? È una vera e propria rivoluzione che stiamo cercando di proporre. Queste sono un po' le modalità, le parole chiave per questa rivoluzione scientifica in campo biomedico. Cosa cambia dalla vecchia genetica, per cui quando sbaglia il DNA sia una patologia, a una nuova epigenetica, questa è la parola chiave, in cui invece vedete la parola due. L'ambiente ha un'importanza importantissima, perché sono informazioni che nella prima fase della vita cambiano la programmazione epigenetica del feto. Al momento in cui vedete le parole tre e quattro, è massima la plasticità dello sviluppo e quindi è massima la possibilità di farsi un programma epigenetico corretto o sbagliato. Parole numero tre e quattro. Se è vero quello che stiamo capendo, noi rischiamo di disturbare addirittura l'evoluzione di una specie. Qualcuno ha detto l'obesità è il primo cambiamento fenotipico di un'intera specie. Negli Stati Uniti si è passata da una prevalenza di obesità del 4% al 36% nel giro di 25 anni. Non è il DNA che è impazzito. Avrete visto tutti le figure di quel poveretto che è morto due anni fa a 560 kg. Ma di cosa parliamo? Stili di vita? Eh, è pazzesco pensare che uno arrivi a 560 kg perché mangia. È talmente sprogrammato che c'ha tre volte gli adipociti che dovrebbe avere. Sono tutti infiammati, c'ha i macrofagi attivati, c'ha un grasso viscerale che è pieno di infiammazione cronica, c'ha l'ipotalamo che non risponde ai segnali, c'ha le ipofisi che produce ormoni in quantità totalmente sregolate, l'assa leptino e grelina non funziona, l'insulino resistenza. Si forma tre anni adesso, capite? Quindi tutto questo è sprogrammazione software. Si può ridurre, si può soprattutto prevenire. Lo sappiamo benissimo, non tutti sono interessati a prevenire. Non tutti sono interessati a far conoscere queste cose perché significa la medicina del futuro non è la medicina della terapia genica che non funzionerà mai, non è la medicina dei farmaci chissà come sofisticati che non curano, è la medicina che parte da una attenzione alla persona, da una riduzione dell'esposizione precoce, da un'attenzione alla prima fase della vita e soprattutto da un interesse vero a preservare le generazioni future da tutto questo. Non c'è dubbio, lo possiamo fare insieme, non lo faremo se non siamo insieme. Allora se tutto questo è vero, le ultime due parole si capiscono bene, origini fetali delle patologie croniche, transizione epidemiologica in atto, finalmente basta con la storia degli incidenti che stanno dilagando, il DNA che è impazzito. Non c'è, scusate se sono in inglese queste diapositive, ma forse può anche essere utile per alcuni. Non c'è cambiamento del nostro fenotipo che non sia indotto dall'ambiente, che non sia condizionato dal DNA. Il DNA condiziona, è predisponente in alcuni casi, può dare piccoli sollecitazioni in un certo modo, ma quando si va a vedere quanti sono i geni associati all'obesità, 2000. Quanti sono i geni associati a 2000? Perché significa? Perché è un po' tutto il genoma che lavora insieme, non è il gene che ha sbagliato, che dà la patologia. Ed ecco cosa significa? Che non c'è cambiamento del nostro fenotipo che non sia modulato dall'epigenoma, cioè dal suo software. Adesso lo vediamo cosa significa l'epigenoma. Significa qualcosa che si forma in quel primo passaggio della vita, i primi mille giorni, soprattutto dallo zigote fino alla fine del secondo anno. Quello è il momento chiave, la parola chiave, la definizione chiave dei primi mille giorni. Non è soltanto una formula che usiamo come Organizzazione Mondiale della Sanità, eccetera. È l'evidenza che nei primi mille giorni il feto, il bambino piccolo, ha una plasticità enorme del software epigenetico. Allora adesso vediamo cosa significa. E questo ve lo faccio scorrere un po' rapidamente. Dal 97, ma questa data ricordiamocela, da questo meraviglioso articolo scritto da un amico, da un biologo molecolare importante che è Adam Wilkins, su BioEssays, noi sappiamo che dobbiamo porci una grande domanda. La sua domanda è ma perché, lo dico appunto citandolo ma per rapidità, perché la fisica teorica nel ventesimo secolo ha fatto una rivoluzione con Einstein, con Bohr, con la meccanica quantistica? Abbiamo capito che non si può giudicare secondo le apparenze, perché il mondo è molto più complesso di come pensiamo e l'osservatore incide sulla realtà ed esiste una relatività delle posizioni e soprattutto non esistono rapporti causa-effetto lineari, ma è tutto molto più complesso del sistema che va studiato per la sua capacità di reagire in maniera intelligente. C'erano fisici teorici come David Bohm che sostenevano che perfino l'elettrone è intelligente, capite? Nel senso che è il cosmo che è intelligente, reagisce per difendersi quando viene attaccato da qualcosa. È una visione, nelle ultime slide vi farò vedere che cosa sta portando tutto questo nella nostra consapevolezza. Risponde su Nature Biotechnology, quindi il più importante giornale di biologia del mondo, risponde Richard Stroman, altro biologo molecolare, vedete, sempre 1997, è una data importantissima questo, dicendo ha ragione Adam Wilkins, noi abbiamo sbagliato perché abbiamo considerato il DNA come la molecola chiave che comanda su tutto, non funziona così. Questo è il dogma di Crick. Voi sapete tutti quanto fanno male i dogmi, soprattutto in campo scientifico. Il dogma non esiste in campo scientifico. Il dogma è il contrario della scienza. La scienza è porsi domande, sapere che ogni risposta è temporanea e che domani quello che ci sembra verità non è più tale. Allora, quando si insegna a tutti gli studenti del mondo che comanda il DNA, fa RNA e fa proteine, l'informazione va in una sola direzione, but never backwards, si dice una gran bugia, pericolosissima. Perché non funziona così. Perché in realtà questi due signori, diceva Stroman in un articolo famoso, continuano a farsi fotografare così, ma non è colpa loro, è colpo di chi crea questi idoli. Nel 1953 era importante pensarla così, ci ha aiutato a capire molte cose, ma il genoma non funziona così. Ci sono dei dogmi, soprattutto tre, il dogma di Weissman, l'idea che c'è una barriera che difenda i gameti dall'ambiente e dall'inquinamento. Non è vero. I gameti sono dei possibili bersagli dell'inquinamento come tutte le cellule del nostro organismo. Non esiste la barriera di Weissman. Cent'anni fa si poteva teorizzare, oggi sappiamo che non esiste. Non esiste il dogma di che è fondamentalmente sbagliato. Ora vi farò vedere lo schema di Stroman di vent'anni fa che ci ha aperto finalmente la mente. E non esiste neanche il dogma della natural selection. Cioè l'idea darwinistica, o meglio neo-darwinistica, secondo cui le forme di vita meravigliose, l'idea della bellezza. La bellezza è nel cosmo. La bellezza è legata a qualcosa di più grande di noi. E questa bellezza crea forme sempre diverse e noi sappiamo sempre di più, sul piano perfino molecolare, come avviene. L'idea che a decidere tutto sia un ente cieco che si chiama natural selection è pericolosissima. Ha portato indietro la coscienza di cent'anni. Poteva servire cent'anni fa? Forse sì, ma adesso è pericolosa, perché viene usata per spiegare il cancro. Il cancro viene ancora spiegato da qualcuno che è convinto di questo come mutazioni casuali del DNA che sono promosse dalla natural selection. Follia. Il cancro è una patologia legata all'attentativo da parte delle cellule e dei tessuti di trovare soluzioni adattative per difendersi da un bombardamento. Non c'entra niente darwin, non c'entra niente la selection. È indotto da qualcosa, da informazioni sbagliate. E così vale per l'antibiotico resistenza, altro tema immenso, importantissimo. Stanno dilagando, rischiamo di perdere gli antibiotici che sono tra le poche sostanze veramente necessarie per difendere la salute di alcune persone, ma vanno usati solo quando è necessario invece. Le usiamo in zootecnia, le usiamo da tutte le parti, li stiamo perdendo. Non è selection. È perché gli antibiotici vanno in tutte le catene alimentari, vanno in tutti gli ecosistemi, sono ovunque e i germi per difendersi si passano delle sequenze che noi chiamiamo geni di resistenza, ma sono geni ancestrali che servono a loro a potenziarsi contro qualcosa che è un'aggressione. È una follia, però è il modello che ci ha fatto sbagliare ed è il modello darwiniano. Dobbiamo dirlo, ma qualcuno che dice così, io lo dico oggi perché siamo tra persone che possono capire, ma se lo dico nei miei contesti, dicono ah lui è un anti-evoluzionista, io non sono un anti-evoluzionista, ma l'evoluzione è qualcosa di infinito, di immensamente grande, non si spiega in maniera così puerile, sciocca con la selection. È qualcosa di più grande di noi, dobbiamo cercare di capirla insieme, ecco perché c'è bisogno di un'alleanza. In questo contesto lo possiamo capire, nel mio contesto è difficile farlo capire. E il terzo passaggio fondamentale, come si fa a capire tutti questi trucchi che sono stati utilizzati, ormai sono trucchi, all'inizio erano persone che ci credevano, adesso non ci credono più. Quando per esempio, sempre più chiaramente, questo è il modellino di Stroman, è divertente quasi da immaginare, ma lo capite, in ogni cellula c'è un nucleo che è grande 2 micron, dentro questo nucleo ci sono due metri di DNA. I due metri di DNA rispondono a ogni informazione in maniera significativamente complessa, perché i geni, che sono 20.000 circa, in Homo sapiens 22.000, più o meno poco più di quelli che trovate nella drosofila melanogaster, cioè nell'insettino della frutta, o nel Kynorabitis elegans, che è un vermino di 0,8 micron, funzionano in noi in maniera molto complessa, perché non c'è un gene che non si accende insieme a mille altri, lavorano insieme, è un ecosistema fantastico, altro che il gene, magari che sbaglia, capite? Cioè è un sistemino che andava bene 30 anni fa, ormai sempre più chiaramente, ecco cosa dice Stroman, in fact genes need to be told to switch off and on. I geni hanno bisogno che gli si dica cosa devono fare, i geni ubbidiscono, non è il DNA che comanda, sono le informazioni che gli diamo che sono importanti, sono le reti epigenetiche. Quando noi abbiamo letto queste cose, ve lo assicuro, vent'anni fa, abbiamo detto ma ci cambia il mondo, capite? Io non so se riesco a tradurlo in parole semplici, cambia il mondo, le informazioni sono più importanti, tutto quello che noi viviamo, quello che noi mangiamo, quello che beviamo, quello che respiriamo e quello che ci diciamo, è molto più importante, le nostre emozioni, quello che ci diamo in termini di amore o non amore, capite? È più importante perché interferisce sul sistema e il sistema rielabora, processa le informazioni e si trasforma, soprattutto nella prima fase della vita. Tutto questo noi lo diciamo in tanti termini, ma adesso abbiamo l'evidenza scientifica come cerco di farvi vedere. Allora il DNA ubbidisce, il DNA non comanda, le informazioni vengono dall'esterno, sono importantissime, questo signore che continua a guardare lì cercando l'errore non ha capito, non vuole capire o non ha capito. Giustifichiamolo, sì, perché sono 30 anni che fa quel gioco, però diventa pericoloso se uno fa un gioco che diventa un circuito chiuso. Il genoma non è questo che viene ancora raffigurato nei libri, quello è il cromosoma 1, ci scrive, guardate come è fatto il cromosoma 1, ha 1700 geni, sì, l'1,5% del DNA, qui sembra il 90%, il 98,5% del DNA non è formato da geni. I geni sono l'1,5%, la parte cosiddetta codificante delle proteine, sono una piccola parte, tutto il resto è molto più importante e si continua a insegnare questo e si dice quando c'è un errore qui patologia, ma di che parliamo? Non è vero, non è più scientifico questo, è un vecchio modo di considerare le cose. Quando vi fanno vedere, a noi ci hanno fatto vedere per anni e ci abbiamo creduto, guardate quanti geni sono associate alle malattie, più ne cercate, più ne trovate, ne trovate migliaia di geni associati, non sono il punto chiave, i geni continuano a cambiare, ora vi farò vedere, ogni neurone, sapete che abbiamo 30 miliardi di neurone nella corteccia cerebrale? 30 miliardi, ogni neurone accumula 2000 mutazioni in media, capite? Chissà quanti tumori, se fosse vera la teoria delle mutazioni stocastiche del DNA, non c'è un tumore cerebrale che deriva dai neuroni, i neuroni non fanno cancro, fanno mutazioni adattative, capite? Che è totalmente diverso da quello che insegniamo. Allora, se tutto questo noi ormai lo sappiamo, se noi sappiamo che il DNA dei mammiferi spesso è piccolo, concentrato, sofisticato, ci ha messo 4 miliardi di anni a formarsi, quello dei protozoi spesso è grande, capite la differenza con quello che noi pensavamo? Se noi andiamo a vedere il numero dei geni, guardate che hanno più geni la piantina del riso e dell'orzo che non Homo sapiens. Homo sapiens è un genoma incredibilmente complesso e non sono i geni che sono importanti, capite? Tutto questo è venuto fuori da progetto genoma. Quando progetto genoma viene usato male, diventa pericoloso, per spiegare ancora gli errori del DNA. Non c'entrano niente, il genoma è meraviglioso, ha 4 miliardi di anni, ha una capacità pazzesca di adattamento, non sbaglia. Nell'uomo quello che cresce è quello, sentite questa, è quasi una battuta, è quello che ancora alcuni si ostinano a chiamare junk, spazzatura, è la parte più importante del genoma. Eppure chi continua a parlare dei geni come causa delle malattie dice che la gran parte del nostro genoma è spazzatura, perché non la capiscono. Alcuni quando non capiscono qualcosa dicono, ricordate la volpe e l'uva. Allora, a questo punto, noi quello che sappiamo è che il genoma è tutt'altro, il genoma è formato per più della metà da sequenze mobili, si muovono continuamente, sono dei retrovirus. I virus, udite pure questo, non sono nemici. I retrovirus sono dentro di noi, nel genoma, come simbionti da milioni di anni e ci permettono di adattarci. Ed è più della metà del nostro genoma. Si muovono. Quando questo articolo, notate ancora una volta, è importante citare i giornali più importanti del mondo, Genome Research, si chiede ma esiste ancora il gene? Che cos'è un gene oggi? Ditolo ai genetisti vostri amici o colleghi. Devo dire che il primo congresso italiano in cui ho potuto fare una lezione di epigenetica nel 2017. Qui a Napoli, alla Società Italiana di Genetica Umana, mi hanno permesso di fare l'introduzione all'epigenetica dopo dieci anni. Così. C'è una resistenza pazzesca a tutto questo e questo ormai invece è chiarissimo. Il gene fa splicing, il gene è in grado di fare migliaia di proteine diverse con dei meccanismi dinamici. Questo genoma che voi vedete qui, vedete i cromosomi, questa è microscopia elettronica, non sono teorie. Guardate la microscopia elettronica, vedete che cos'è un cromosoma. Sono due metri, il genoma è formato da due metri di DNA, è talmente iperavvolto che sembra... ma guardate cosa succede se l'andate a vedere un po' più da vicino. Vedete che si apre, si apre ogni millisecondo in trilioni di cellule per produrre le proteine e gli RNA minori che servono non alla cellula ma all'intero organismo. È un miracolo. Ma è un miracolo perché in realtà la scienza va vista così, come un miracolo continuo, non riduzionisticamente come andiamo a vedere dove sbaglia. È una follia. Non è riduzionismo, è stupidità. Non sbaglia, lui cerca di rispondere a questo misterioso insieme di molecole, miliardi di molecole che lavorano tutte insieme. Allora, vista così finalmente, questo è il modellino che stiamo mettendo in campo. Noi siamo continuamente bombardati, come vedete, da campi elettromagnetici, da molecole che non esistevano in natura, da tutta una serie di sostanze che sono biologicamente truccate, additivi, chimici, eccetera. Il genoma è fluido. Nella sua componente più importante, che è la parte non codificante proteine, è l'epigenoma. Cerca soluzioni adattative. C'è un continuo dialogo tra quello che viene dall'esterno e environmental signals. Questo significa. Sono informazioni che arrivano dall'esterno. di tutti i tipi. È il genoma che cerca di trovare adattamenti. Questi adattamenti avvengono con dei meccanismi, chiaro che non entriamo nei dettagli, incredibilmente sofisticati, perché il genoma produce gli enzimi che lo automodificano. Questo si chiama Natural Genetic Engineering. Cioè il genoma è in grado di fare ingegneria genetica continua su se stesso. È meraviglioso, ma capite che l'errore del DNA è una stupidità assoluta. Allora, se noi lo vediamo così, e tutto questo soprattutto nella fase più plastica, che è quella dell'embrione del feto, ecco perché noi parliamo di fetal programming. Fetal programming significa quella creatura che è già una creatura vivente, probabilmente già capace di una, tra virgolette, comprensione, in un certo senso della realtà, che è lo zigote. E quando qualcuno vi dice, beh, ma quando comincia la vita e la coscienza? Un mese, tre mesi, una follia? C'è già. Già lo zigote è un miracolo, perché lo zigote ha non solo un genoma, ha una capacità di programmarsi per la vita. E cominciano due, quattro, sedici, la morula, la blastula, la gastrula, vi ricordate i termini? Tutto avviene, prima ovviamente con un programma di base, ma sulla base delle informazioni che arrivano. E alla fine siamo composti da trilioni di cellule che hanno tutte lo stesso DNA, ma hanno ognuno un software diverso. Volete vedere la differenza enorme? Guardate queste due cellule. Queste sono un linfocita e un neurone. Una cellula che serve alla difesa, così si dice, ma in realtà serve a molto di più, è il neurone che è nel nostro cervello. Guardate, sono totalmente diverse, hanno lo stesso DNA. Capite? E quelli cercano ancora, quel signore che avete visto lì col dito puntato, nel DNA tutto. DNA è solo il database. Il problema è che dal linfocita, dal linfoblasto al neuroblasto, che sono cellule multipotenti iniziali. Si formano queste due cellule totalmente diverse perché cambia il software, perché hanno avuto una vita diversa e quindi hanno una memoria diversa. Allora, che cosa è successo? Il linfoblasto e il neuroblasto sono cellule multipotenti praticamente identiche. La prima, il linfoblasto, passa nel midollo, passa nel timo, incontra gli antigeni self, si crea un proprio software. Praticamente silenzia epigeneticamente tutto il DNA che non gli serve, attiva le sequenze sui cromosomi 2, 14 e 22 per fare anticorpi e la scegliela specializzata, eccola lì. Il neuroblasto, che era uguale all'infoblasto, migra, va nella corteccia e ogni volta che la madre, in qualche modo, beve, respira, mangia, soffre, gioisce, arriva al feto un'informazione e il feto fa spina dendritica, collegamento, rete neuronale. Non c'entra niente il DNA, capite? Cioè non c'entra niente, il DNA è lì che ha prodotto la sequenza di base, ma tutto il resto è infinitamente più importante, ed è la vita, ed è la memoria, ed è quello che avviene realmente in ogni vita. Noi siamo epigenoma, noi siamo connettoma, noi siamo, a mio parere, anche anima, ma questo non lo mettiamo neanche dentro, chiamiamola come vogliamo. Ovviamente qui capite di cosa stiamo parlando, questo riduzionismo che dice tutto DNA, è una follia, va combattuto come tale. Combattuto, dicevo prima col collega, certo non andando contro altri, non serve, ma convincendo progressivamente gli altri che bisogna lavorare insieme, però ha un modello più ricco, più profondo. Quest'uomo, per esempio, è l'esempio di una scienza alta che è stata dimenticata per 50 anni, Waddington, quello che per primo ha parlato di epigenetica, ha dimenticato perché? Perché lui diceva le cellule hanno una memoria, lui parlava di un landscape, parlava del fatto che ogni cellula passa attraverso una serie di sollecitazioni, informazioni, cambia la sua memoria, accumula dati e si trasforma. Perché è stato rifiutato? Perché a un certo punto è arrivato il dogma di Crick. Capite perché io parlo criticamente di quel dogma? Perché è stato dimenticato il fatto che in realtà è stato descritto la capacità di ogni organismo, dallo zigote in giù, di programmarsi per la vita in maniera plastica, in maniera incredibilmente complessa e tutto è stato ridotto alla molecolina che decide. Allora su questa base, per esempio, le api, non parlo solo degli organismi più complessi, guardate le api. Le api sono un altro dei misteri di Dio, siamo tutti d'accordo su questo. Che cos'è l'ape? È una creatura che ha un grammo di cervello. Se noi dovessimo ragionare in termini riduzionisti diremmo ma l'ape riesce a fare una danza frattale per comunicare alle sue colleghe la distanza dall'alveare e sbaglia di micron. Ha un grammo di cervello. Come fa? È un mistero. La cosa più misteriosa è che l'ape ha costruito nei millenni, nei milioni di anni, società incredibilmente complesse in cui c'è la regina, ci sono le operaie, ci sono le infermiere, ci sono le bottinatrici, tutto questo non ha niente a che vedere col DNA. Il DNA di queste due creature che sono la regina e l'operaia è identico. Quello che è cambiato è stata la nutrizione nei primi giorni di vita perché le operaie nutrono le larve con la pappa reale e fanno una regina e al limite una regina sostituta. E tutte le altre con lo stesso DNA sono totalmente diverse. È meraviglioso, ma capite? Il DNA conta fino a un certo punto, sono due creature totalmente diverse. Allora se tutto questo è vero e ci sarebbe molto da dire, sapete che se noi pigliamo in laboratorio delle bottinatrici, le vogliamo trasformare in infermiere e basta cambiare l'epigenoma e il DNA non c'entra nulla per dire. Quindi quando mi dicono, sai, sono ipotesi, no, no, non è vero. Abbiamo dei genetisti, non faccio i nomi e cognomi, ve li faccio solo in privato in Italia, uno dei più grandi genetisti italiani che due anni fa in pubblico, in un grande congresso, mi ha dato una pacca sulle spalle e ha detto che belle idee, che meraviglia, ma ricordiamoci che le grandi conoscenze che abbiamo sono tutto DNA. Disarmante. Per fortuna forse si può dire disarmante, perché appunto, come dicevamo, non c'è neanche da combattere. Bisogna sperare che piano piano passi tutto questo, nonostante qualcuno che non vuole che passi. Noi se andiamo a vedere queste due gemelline fanno patologie diverse, hanno il DNA identico, perché si sono accumulate modalità diverse di reagire nei decenni della loro vita, è tutta epigenetica. È vero che c'è la doppia spirale del DNA, ma questa doppia spirale è formata non da DNA codificante, ma in buona parte da questo junk che in realtà è capace di rispondere, di programmarsi meravigliosamente. Si chiama mobiloma, brutta parola, però mobiloma significa che la gran parte del genoma si muove continuamente, è vivo, capite? Non è la molecola da studiare col proprio errore, è vivo, il genoma è vivo, è in grado di rispondere, di trasformare, trasformarsi, fa ingegneria genetica, anche la prova ingegneria non mi piace, vive e si trasforma, e si trasforma sulla base delle informazioni che gli arrivano. Allora tutto questo non è teoria, questo grande genetista, un giorno invitiamolo in Italia, l'abbiamo invitato due volte, è un eretico tra virgolette, il più grande genetista del mondo, Jim Shapiro, non gli daranno mai il Nobel, se vi interessa c'è un libro che si chiama Evolution, non tradotto in Italia, traduciamolo, che comincia con una frase apodittica e meravigliosa. Variation, not selection, is the key in evolution. Without variations, selection has nothing to act upon. La selezione non può operare se non ci sono delle variazioni, è il mistero di come varia continuamente la vita che dobbiamo spiegare. Quest'uomo, Natural Genetic Engineering, ci ha aiutato a capire come i linfociti cambiano continuamente, i neuroni cambiano continuamente. Quello che vi dicevo all'inizio, non c'è neurone che non accumuli migliaia di mutazioni e non fa cancro. Aumentano i tumori del cervello, non stiamo qui a dire, ma aumentano gli gliomi, glioblastomi, astrocitomi, meningiomi. Non fa cancro il neurone, eppure guardate dove accumula le mutazioni. Guardate lì, lobo frontale e prefrontale, sono le due parti del cervello più nuove e più sofisticate, sono piene di mutazioni utili, quindi non c'entra niente, non fanno cancro. Allora come fa il neurone in realtà a fare mutazioni, è un po' tecnica questa roba, però io cerco di spiegarla in modo comprensibile. Fa double strain break, cioè rompe il genoma, lo apre, lo corregge, lo riaggiusta, lo trasforma continuamente per adattarsi alle novità. Fantastico. Ogni pensiero funziona così, io vi parlo, io non vi trasformo per fortuna e per grazia di Dio, io vi do informazioni. Queste poi, durante la notte, entrano via via nel sistema e voi sceglierete quali di queste trattenere. Come fate? Con un elaborato costrutto di trasformazione epigenetica dei neuroni e tutto. Ma è tutto, non è scritto nel DNA, è una decisione che prenderà la vostra, chiamatela come volete, coscienza, inconscio, anima. Allora tutto questo, sempre di più, spiega perché dal 97, ecco perché la data di poco fa di quell'articolo di Wilkins ve l'ho sottolineata, dal 97 guardate come aumentano gli studi, mettete la parola epigenetics su PubMed, vedete quest'aumento. Mettete epigenetics and cancer, mettete epigenetics and autism, mettete microbiome, il microbioma è il genoma dei nostri ecosistemi microbici, è il più potente modulatore epigenetico che abbiamo nella prima fase della vita. Guardate quando cominciano gli studi, 1997. Prima si parlava di flora intestinale, non si capiva l'importanza dell'intero sistema. Guardate la parola endocrine disruptors dal 97. È lì che comincia, si è aperto un file, per alcuni sì, per altri no, ma per alcuni si è aperto. E infatti guardate le pubblicazioni. Allora, questo Dobzhansky, questo era uno dei padri del neodarwinismo, persona di livello, diceva non c'è nulla in campo evoluzionistico che non possa spiegare il modo in cui la biologia opera. Senza la spiegazione evoluzionistica non si capisce la biologia, è vero? Ora, una piccola provocazione, quella che ha dato un po' fastidio a questi colleghi genetisti. Non vi piace? No, non so, però io sottolineo, questo è il Sanger Institute, questo è il più importante istituto al mondo di sequenziamento del DNA. Quando è stato eletto il quarto primate, ha detto guardate come assomiglia al terzo, anche sul piano comportamentale. Quando è stato eletto il quinto, ha detto guardate come assomiglia al primo. Hanno detto abbiamo perso milioni di anni. Ora, è chiaro che è una battuta, ecco, meno male che la prendiamo così, perché vi assicuro che al congresso nazionale di genetica l'hanno presa come una provocazione, alcuni, voglio dire, quelli ovviamente più importanti. E invece no, bisogna vederla così, questo significa che il DNA non cambia nei millenni, nei milioni di anni, non è lì, è la parte animale, il corpo che in qualche modo è codificato nel DNA, ma tutto il resto, noi non siamo solo questo, vogliamo capirlo insieme. Noi abbiamo quantomeno vari programmi profondi, più o meno diversi, sicuramente abbiamo un DNA che è il prodotto della filogenesi che cambia poco, ed è inutile che vi ostiniate a cercare lì gli errori, non c'entra. Noi abbiamo dei software, per grazia di Dio, continuo a dirlo, abbiamo un epigenoma, abbiamo un connettoma cerebrale, siamo diversi perché siamo diversi per migliaia di motivi, nel bene e nel male. Allora bisogna considerare tutto questo in maniera diversa, se aumentano le patologie, vi faccio vedere alcuni dati rapidissimi, guardate l'obesità come aumenta. E aumenta soprattutto nei bambini, altro che stili di vita sbagliato. Aumenta perché noi vedevamo quel bambino nei libri, io non ho visto un bambino obeso negli anni 80 in Italia, capite? Oggi è il 12%, e aumenta non perché, guardate, questa è una review che abbiamo scritto qualche anno fa, aumenta perché c'è nelle catene alimentari qualcosa che sta disturbando, perfino i gameti. Si sta sprogrammando tutto questo, così vale per l'asma, guardate l'aumento per le malattie immunomediate, per le patologie cronico-ostruttive. Questa non è una battuta, le patologie cronico-ostruttive dell'anziano sono patologie pediatriche, capite? Perché cominciano dalla sprogrammazione, per esempio nelle grandi città, Terre dei Fuochi, Los Angeles, Nuova Delhi, io vengo da un congresso a Nuova Delhi, non si può girare a Nuova Delhi, Nuova Delhi è veramente the day after, e così sono tutte le megalopoli del mondo, guardate come sono le radiografie dei bambini in quelle città, hanno già l'enfisema a 10 anni. Non c'è da stupirsi poi, allora cosa c'entra col DNA? E ancora una volta, e qui arrivo veramente agli ultimi due passaggi, forse sono quelli che ci preoccupano di più, ma sono anche quelli più importanti su cui dobbiamo lavorare insieme, guardate l'aumento dei tumori infantili. L'aumento dei tumori infantili, l'ANSET 2004 è tutto concentrato nei primi due anni di vita, non c'è un accumulo di mutazioni stocastiche che sono esposti in utero o addirittura i gameti a qualcosa che disturba la programmazione, non aumentano i tumori tradizionali, aumenta il neuroblastoma, il rabdomiosarcoma, i linfomi giovanili, le leucemie non linfoblastiche, cioè non è la common, quella che curiamo da anni, no, aumenta altro. Perché? Perché il DNA è impazzito? Assolutamente no, quest'uomo lo aveva detto nel 79, Renzo Tomatis che è stato per anni il direttore della IARC, io ho lavorato con lui, ho avuto questo piacere e onore negli ultimi anni, devo dire che per questo che poi avevo cominciato anche in Italia a occuparmi di queste cose, guardate cosa scrive nel 79 sulle monografie del National Cancer Institute, che è il più importante giornale al mondo, nel 79 scrive, prenatal exposure to chemical cancinogencies, its effect on subsequent generations, 79, è che non hanno voluto ascoltare, sono passati 40 anni, noi questo lo sappiamo da 40 anni e abbiamo tutte le dimostrazioni, oggi un bambino su 100 nasce con una traslocazione preneoplastica, non è una mutazione stocastica, è che cerca di difendersi da qualcosa, questo è l'ultimo articolo, vi lascio le diapositive, a chiunque le vuole le può prendere, questo è l'ultimo articolo che ha scritto Renzo prima di lasciarci nel 2007, in cui ritornava su una cosa che avevamo scoperto da poco, insieme l'aveva scoperta Griffiths, ma noi eravamo arrivati sulla letteratura a trovare delle cose pazzesche, questo bimbo, primo anno di vita, aumenta una leucemia rarissima prima, che sta aumentando un po' in tutto il mondo, guardate c'è un articolo che ci dice anche che tipo di esposizione è quella più pericolosa, il bygone, la polverina bianca che le mamme non sapendo lo mettono negli angoli delle case contro gli scarafaggi e le formiche, lo facciamo sapere alle nostre mamme tutto questo, guardate che è Cancer Research, questo è uno dei più importanti giornali al mondo ed è del 2001 mi pare, sì 2001. Quando abbiamo capito questo ed è l'ultimo passaggio è il sistema nervoso centrale, qui veramente c'è da dire ma cosa sta succedendo? Adesso ieri parlavo con un collega neuropsichiatra di Roma che è stato invitato, che è una persona molto seria eccetera, lavoriamo insieme perché non vogliono capire purtroppo molti nostri colleghi, che oggi un bambino su sei, forse otto ha disturbi neuropsichiatrici, uno su sei otto, cosa sta succedendo? Il DNA che è impazzito? Assolutamente no, c'è possibilità di fare qualcosa? Assolutamente sì, sono le reti neuronali, non è il DNA, il DNA a milioni di anni produce il cervello, il cervello è uguale in tutti noi, abbiamo l'area di Broadman 42, 56, 120, oggi si dice 120, collegate allo stesso modo da milioni di anni, non è lì il problema, il problema è nel software, si formano come avete visto all'inizio della vita le reti neuronali, stiamo disturbando la formazione delle reti neuronali e sono pesticidi, primo, nel feto, metalli pesanti, particolato il trafine, lo stress materno fetale, lo stress, uno dice beh lo stress è utile, sì lo è stato per millenni, per milioni di anni perché lo stress è quello che ci dice scappa quando c'è un pericolo, ma è uno stress acuto, quello che noi abbiamo inventato e sta dilagando è lo stress persistente dei giorni e delle notti che diventa depressione che colpisce un americano su nove, questo non esisteva in natura, capite? Quindi anche qui, ma orientiamolo un po' meglio questo discorso, non è il DNA, quello che sta succedendo, e questo ancora una volta è l'anset, è che c'è una pandemia silenziosa di cui nessuno parla di disturbi del neurosviluppo che colpisce ormai, adesso vi faccio vedere i dati, questo è l'anset, questo è l'anset neurology che ci dice nelle aree in cui ci sono pesticidi e metalli pesanti c'è un raddoppio del raddoppio dei casi di autismo, e lo dice l'anset e lo dice il CDC di Atlanta che ci parla di un aumento di diagnosi da un bambino su 1.500 a un bambino su 68 in 30 anni, vedete? Quindi adesso negli Stati Uniti, Pediatrics del 2018 ci dice un bambino su 40 ha una diagnosi di disturbo di spettro autistico, stiamo parlando di un passaggio da 1 su 2.000 a 1 su 40 in 50 anni, allora tutto questo, che cosa sta succedendo, come lo dobbiamo interpretare, guardate che non è tutti i disturbi, tutte le, per dire le anomalie stanno aumentando, no, quello è dei tessuti più esposti, il sistema nervoso centrale è il tessuto più plastico, più dinamico, più esposto, ma anche quello più importante, è lì che abbiamo l'aumento veramente catastrofico se non stiamo attenti, allora tutto questo non lo possiamo affrontare da soli, perché mentre io vi dico queste cose, sono il frutto di 30 anni ormai, 25 anni di lavoro su questo, beh, ci sono tantissimi colleghi che tutto questo dicono, ma ancora non è da dimostrare, ancora lo vedremo, poi lo vedremo, no, non c'è tempo, perché se è vero che questo è l'aumento dei tumori del bambino e dei disturbi del neurosviluppo del bambino, non c'è tempo, dobbiamo assolutamente fare in fretta, dobbiamo vedere, vedete 1997, torna questa data continua, è dalla fine del 90 che studiamo tutto questo, ormai sono 20 anni che abbiamo questa dimostrazione continua, in tutti i paesi del mondo, ormai si parla di 1 su 59 negli Stati Uniti, 1 su 59 in Inghilterra, 4 a 1 sono maschietti, non entrano nei dettagli perché potete capire, la depressione sta dilagando, la depressione se noi andiamo a vedere colpisce un americano su 9 solo in terapia per depressione major, se noi andiamo a vedere quello che sono realmente i sintomi, dalla tristezza persistente ai sensi di colpa, alla bassa stima di sé, capite che è importantissimo per esempio questo, è qualcosa che si produce all'inizio della vita, non ha niente a che vedere col DNA, se noi andiamo a vedere irritabilità, difficoltà a concentrarsi, disturbi del sonno, disturbi dell'appetito, chi di noi non ha tutto questo? Qual è la differenza? La società produce questo, noi abbiamo ancora per fortuna attorno a noi una rete di famiglie, di comprensione reciproca, abbiamo istituzioni che reggono per fortuna, negli Stati Uniti è crollato, non c'è sistema sociale, non c'è solidarietà, non c'è comprensione, c'è isolare quello che ha problemi perché diventa pericoloso, capite? È quello che sta distruggendo le società, la competizione, la non comprensione, questo c'entra il DNA. Allora se tutto questo è chiaro, ecco perché negli Stati Uniti sta aumentando nei bambini la depressione, i disturbi dell'umore, l'Alzheimer, vi ho già detto, quello che sta succedendo è che non lo sanno molte mamme, ma il fumo di sigaretta, l'alcol a piccole quantità, il particolato ultrafine, i pesticidi che sono nelle catene alimentari, le diossine, i furani negli inceneritori che vengono emessi purtroppo e qualcuno continua a dire beh non c'è un aumento dei morti e feriti, sì non lo vedete dopo tre anni, lo vedete dopo 30, lo vedete nelle generazioni future, i veri effetti di questa robaccia. Quindi dobbiamo veramente cambiare, dobbiamo fare questa informazione, nelle aree in cui vengono usati i pesticidi in questo modo c'è un raddoppio del raddoppio come diceva Lancet e tutto avviene nella primissima fase della vita. Ultimi passaggi perché chiaramente credo che insomma il messaggio spero di averlo tradotto in termini comprensibili. Guardate l'Alzheimer, quando qualcuno parla di Alzheimer come malattia genetica, vi dicevo nelle autopsie di 50 anni fa praticamente non esisteva quasi. Quello che è stato visto a Città del Messico, a Nuova Delhi, in quattro città importanti, questo è uno studio di Città del Messico, guardate come passa il particolare ultrafine, passa attraverso il nervo olfattivo, finisce nel lobo frontale e nell'ippocampo che sono i due lobi più esposti del cervello, perfino i cani a Città del Messico sono pieni di beta-amiloide, i cani che vivono 8-10 anni, hanno già sintomi di tipo Alzheimer, capite? E ancora una volta qualcuno dice non c'è la dimostrazione, ma più dimostrazione di così, i ragazzi giovani che muoiono in queste città sono piene di beta-amiloide nel cervello, è assolutamente dimostrato, non è vero che non c'è dimostrazione, certo qualcuno che continua a studiare la genetica dell'Alzheimer non dico che si è malafede, ma non le sa queste cose o non le vuole sapere. Quindi su tutto questo la ricerca ormai è sterminata, facciamo fatica a trasmetterla, a farla passare, a farla diventare conoscenza di tutti, ma i meccanismi sono assolutamente noti e dimostrati, anche qui questo articolo dice l'Alzheimer e patologia infantile. Allora, ho veramente finito, salto la parte sui meccanismi più specifici, vi faccio vedere che nel 2017 è venuto fuori uno dei lavori di alcuni colleghi che fanno vedere come noi, è per questo che stiamo studiando le placente, possiamo dimostrare le marcature specifiche dei geni che fanno la differenza, per esempio quelli che controllano la neurogenesi, la sinaptogenesi, che sono metilati e non funzionano più nella misura in cui sono esposti. Abbiamo tutte le prove, non è vero che non ci sono, sul piano scientifico le prove le abbiamo tutte, sappiamo esattamente quello che sta succedendo, sappiamo cosa produce l'infiammazione persistente in un cervello di un bambino, produce esattamente quello che c'era da aspettarsi, e cioè disturbi di spettro autistico, schizofrenia. Sappiamo, e questo finalmente è una notizia più che consolante, che il latte materno non è solo quello che si sa da 30 anni un sussidio fondamentale da non perdere, produce cellule staminali. Le cellule staminali del latte materno passano la parete dell'intestino del neonato e del lattante, vanno nel sistema nervoso centrale, si trasformano in neuroni, in glia, in astrociti. Quindi dare latte materno per sei mesi, un anno, letteralmente cura le ferite dell'inquinamento. Anche questo. Ancora si continua a non utilizzare questo che è una regola fondamentale che sappiamo da 50 anni. Allora, non si vuol sapere. Dai tempi di Bowlby, dai tempi di Anna Freud, sappiamo che cos'è lo stress infantile. La differenza è che adesso sappiamo i meccanismi. Sappiamo che lo stress della madre, le emozioni negative, la sofferenza, gli abusi, vanno a marcare il genoma in maniera significativa. Prima l'abbiamo visto nei topini. Poi abbiamo visto che i topini che hanno sofferto durante l'infanzia, hanno alcuni geni marcati epigeneticamente che non funzionano più e vivono tutta la vita in stato di stress. Poi abbiamo visto, e questo è fondamentale, nelle autopsie delle persone che muoiono per suicidio negli Stati Uniti ci sono le stesse marcature epigenetiche dei topini del laboratorio. Ora, questo è ancora una volta qualcuno, c'è stato un biologo italiano che mi ha detto a un certo punto, vabbè voi studiate i topini. Ma non è vero. C'è questa coorte che riguarda centinaia di suicidi. Allora, ancora una volta, lo sappiamo benissimo. Qualcuno che non lo vuole sapere non lo vuol sapere, ma sono fatti suoi. Quello che noi abbiamo visto è che perfino nei sopravvissuti di Auschwitz noi troviamo marcature epigenetiche che si riflettono sulla vita dei loro figli. Noi abbiamo visto che nei sopravvissuti del Rwanda abbiamo la stessa cosa, ma soprattutto abbiamo visto che se questi bambini vengono seguiti nei primi due anni di vita non sviluppano la depressione e le altre malattie gravi. Quindi dipende da noi. Perfino il padre si è esposto in epoca giovanile a delle marcature epigenetiche. Ci sono delle copy number variants che si trasmettono da una generazione all'altra che noi troviamo nell'autismo, nella schizofrenia. E se noi quei bambini li riconosciamo e li aiutiamo all'inizio della vita, non sviluppano né disturbi di spettro autistico né schizofrenia. Dipende da noi. E dipende da noi, e questo è l'ultimo dato, ridurre i campi elettromagnetici. Questa è una review che abbiamo scritto nel 2018. Vogliono mettere, questo è un allarme, il 5G, non c'è nessuna sperimentazione. Sono alte frequenze, le vogliono piazzare ogni 60 metri. Questo è un esperimento in vivo sulla popolazione mondiale. Non si può permettere questa roba. Come facciamo? Voi pensate che chi fa ricerca in questo campo abbia la parola, la voce sufficiente per farsi ascoltare? Assolutamente no, perché non sapete quanti risposte abbiamo avuto a questo articolo del 2018. Ce ne fosse stata una su una rivista peer reviewed. Erano tutte su giornali spazzatura. Qual è la differenza? Che noi scriviamo e vengono lette da 5.000 persone nel mondo. Arriva il giornale spazzatura, lo legge un milione di persone. Quindi è proprio costruito così. Eppure noi abbiamo dimostrato che dopo 7 minuti, se voi esponete le cellule umane a campi elettromagnetici di frequenza 800-1900 MHz, che sono quelle dei cellulari, cominciano a produrre proteine dello stress e si muovono delle sequenze di tipo oncogenico. Noi abbiamo dimostrato che le cellule più sensibili ai campi elettromagnetici di frequenza dei cellulari sono le cellule embrionarie e le cellule staminali. Noi l'abbiamo dimostrato. Noi abbiamo dimostrato per dire c'è chi lavora su queste cose. Immaginate la poca eco di questi studi. Abbiamo dimostrato, questo è veramente l'ultima cosa, che il centro della ricompensa, che è il centro più antico. Guardate quel pappagallino. Quel pappagallino non ha imparato a essere felice perché qualcuno lo carezzi nei milioni di anni. L'ha imparato da questa persona. Eppure che cosa avviene dentro di lui? Avviene un meccanismo potentissimo perché il centro di ricompensa è quello che ci aiuta a capire quello che ci fa bene e quello che ci fa male. Lo stiamo totalmente ingannando. Noi stiamo producendo una serie di cose, come in laboratorio. Prendete un topino, è triste che si facciano questi esperimenti. Questo è dell'85. Mettete un elettrodo nel suo cervello e sollecitate il centro della ricompensa. Diventa un drogato. Non fa altro che passare la sua vita a toccare con una leva quel centro di ricompensa che si attiva. Ecco cos'è la droga. La droga funziona così nel topino, nell'uomo. Se c'è una droga potente da questo punto di vista è questa. Duemila volte al giorno gli adolescenti americani toccano lo smartphone. Ogni volta che toccano lo smartphone parte la dopamina ed entra il circuito della ricompensa. Stiamo ingannando un circuito che ci aiuta a dire quello che è bene e male per noi. Tutto questo non avviene più negli adolescenti. Ormai le mamme sono orgogliose del fatto che il loro neonato fa sta roba qui e nessuno le mette in guardia. E quando si parla di Kikomori, gli Kikomori sono un milione in Giappone, sono drogati da una roba semplicissima. Cioè il loro centro di ricompensa è stato talmente drogato dai videogames che non escono più da lì. Non hanno più nessuna relazione umana, non riescono più neanche a dialogare con i propri genitori. Un milione. In Italia sono 80.000, nessuno ne parla, pochissimi ne parlano. Allora, guardate, ultimo passaggio, guardate il videogame che sta dilagando negli Stati Uniti e adesso è arrivato in Italia. Si chiama Granny. Si permette di fare questa roba qua. Viene da pensare che qualcuno lo voglia. Questa Granny è una nonna assassina che gira per casa. Vogliamo bloccare sta roba. Vogliamo allearci e dire non si può fare sta roba. Il bambino deve uccidere la nonna assassina per non esserne ucciso. Non si può permettere questa roba qua. Queste sono emergenze assolute, questo è pure ambiente. Tutto questo nella prima fase della vita marca letteralmente epigeneticamente le reti neuronali, le disturba e si crea un asse ipotalamo-ipofisario completamente alterato. Il bimbo vive, nella sua coscienza entra qualcosa che è nella mia casa, gira una figura tremenda che è mia nonna. Non si può permettere di fare questa roba. E quando vedete i commenti negli Stati Uniti sono tutti positivi e spesso sono i genitori che fanno giocare i bambini a sta roba per dire quanto hanno perso di consapevolezza e di coscienza. Ci fermiamo qui per oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.